Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Allora, come avrei detto nel titolo, oggi vi mostrerò cosa c'è nel mio armadio Ok, forse c'è uno spirito, non so che cos'è Ho già avuto qualcuno che sta scrivendo sotto nei commenti che cosa ci può star nell'armadio Ci sono dei vestiti nell'armadio Tranquilli, forse, forse ci sono dei vestiti ma anche forse anche altre cose Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a scoprire che cosa si nasconde qua dietro Ho parecchio paura ragazzi, cioè, vedete, l'armadio è molto grande Non potete capire ragazzi, qui dentro forse ci sono dei mostri, ora scopriremo Allora, primo impatto, si vede Un bellissimo Bob Marley che fuma una sigaretta Poi la scritta karate, non so se ve la vedete ma penso di no E poi apriamo questo magnifico armadio Ma chi è questa? Oh, un minioz! Ma che cosa? Sei nano, un minioz? Mangia, minioz! Ok, bravo minioz! Ah, puretti noi! Iniziamo subito bene con un pezzo di banana per terra, ok? Andando a sbirciare, vediamo un po' di nutella Non ci fate caso, questa la uso quando mi sento male E c'è anche del tè Ovviamente quello lo uso quando devo andare a cagare Insomma, ecco qua Ci sono anche un po' di cose nascoste Una bellissima spada, se voglio uccidere qualcuno è perfetta E anche Oh mio Dio, che cazzo è? Non lo so Non lo so che cazzo Che schifo, ho tutte le mani sporche Poi vedo un cappello di Natale Molto utile questo cappello Da usare ovviamente per le feste di Natale Poi qua ci sono un sacco di impicci ragazzi Che manco voi potete immaginare E qua c'è anche un mio computer Che purtroppo è morto Perché a forza di fare Di editare 50 video E' andato Nell'aldilà Poverino Riposo in pace Apriamo un attimo in diretta Che cosa c'è qua dentro Forse la trova Qui non c'è niente Che cosa si nasconde qua dentro Forse Vitti stronzi Questo ce ne ho disposto Borse Che cosa me ne faccio delle borse Ah la scatola della telecamera Che cosa me ne faccio Che cosa me ne faccio Della Playstation 2 Che cosa me ne faccio Bello si Le squadre Guida dolci Ma che cosa sto vedendo Ma che cosa sto vedendo Che cosa è tutto questo Delle foto di Davide E poi qua C'è una porta segreta Che ci porta in un altro mondo Seguitemi tutti quanti Si passa per qua Si passa per qua Togliatevi le scarpe Perché qui non accettano Le persone con le scarpe Ok Io forse me ne tolgo Forse Oh c'è qualcuno Non respiro Ma dove cazzo sono andato Ma che è il paradiso Ma non devo portare a Narnia Vabbè torniamo indietro Oh mio dio Ma dove cazzo sono andato Ma io devo tornare a casa Vabbè Visto che ci sono Basta sto perdendo solo tempo Devo tornare subito a casa Subito Vamos Oddio Spero che il video Vi sia piaciuto ragazzi Perché qui Ci sono tanti segreti Che voi avete visto Lasciate un mi piace Iscrivetevi al mio canale Se non siete ancora iscritti Perché io vi sto O non so dove abitate E lasciate un mi piace Perché questo video Spaccate brutto Spaccate brutto Yeah Spaccate brutto Spaccate brutto Lasciate un bel mi piace E seguitemi anche sui miei social Che sono Instagram Facebook E music E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Grazie Come è bello Andar nel mare Con le chiave Su Oddio Scrivetevi Addio Addio Amici Addio Addio Venite domani Da noi Ciao